Soddisfatto il sindaco di Laurino, Romano Gregorio, nominato nuovo direttore del Parco del Cilento, Valodidiano e Alburni, dal ministro dell'Abbiente Galletti. Il via libera è arrivato ieri, ottenendo la preferenza rispetto a Elena Petrone e Patrizia Positano. Persona di grande esperienza, Romano Gregorio svolge un'attività ultraventennale al parco, avendo dato prova di grande capacità. Persona di grande esperienza, Romano Gregorio svolge un'attività ultraventennale al parco, dando prova di grande capacità. Non c'è cosa più bella, dice, che poter lavorare per il proprio territorio è favorirne la crescita. Sono veramente soddisfatto e felice di questa nomina che è il coronamento di un percorso avviato dal 97. Io dal primo giugno del 97 che lavoro presso l'Ente Parco e mai avrei immaginato di poter arrivare ad essere al vertice della struttura tecnico-burocratica. Di questo ovviamente ne sono fiero ed orgoglioso, però voglio ringraziare gli artifici che hanno reso ciò possibile, in primis il presidente Pellegrino e l'intero consiglio direttivo che all'unanimità ha deliberato questa terna e ha riposto grande fiducia nelle professionalità interne dell'Ente, perché questa terna era composta oltre che da me, anche da altri due colleghi. Quindi è un riconoscimento del lavoro che in questi anni abbiamo svolto. Per quanto tempo sarà questo incarico? Quanto tempo dura? Il decreto ministeriale indica la durata massima in cinque anni, anche se devo dire che l'indirizzo ministeriale degli ultimi tempi è quello di orientare le scelte in tre anni. Quindi poi sarà il presidente e l'intero consiglio a decidere anche la durata dell'incarico, ma credo che dovrebbe aggirarsi sui tre anni. Quali sono secondo lei le esigenze di questa struttura tecnico-amministrativa, ma soprattutto del nostro parco? Qual è il futuro del Cilento, i punti programmatici su cui lei intende appunto svolgere la sua attività e il suo incarico? Il ruolo del direttore è quello di attuare gli indirizzi programmatici che delibera il consiglio direttivo e il presidente, perché è una parte tecnica, quindi diciamo che il percorso da parte del nostro consiglio e del presidente è stato già tracciato, soprattutto nel dare grande priorità alla valorizzazione delle nostre peculiarità. Mi riferisco oltre che alle aree marine, ma anche alle zone interne, alle tantissime bellezze, ai tanti siti archeologici, basti pensare che il parco del Cilento è il parco che ha quattro riconoscimenti, un esco, l'unico al mondo, e quindi puntare molto su queste eccellenze e queste peculiarità per valorizzare le tante cose positive che ci sono. Certo, le criticità non mancano, però bisogna lavorare affinché esse vengano, non dico eliminate, ma quantomeno diminuite per poter creare quanto più benessere i cittadini che hanno scelto di vivere in un posto bellissimo, qual è il territorio del Cilento, del Valle di Diano e degli Alburdi.